gli straordinari incontri di madre speranza con le anime del purgatorio salve a tutti carissimi oggi voglio parlarvi di madre speranza che è stata una religiosa e mistica spagnola che ha fondato le congregazioni delle ancelle dell'amore misericordioso e dei figli dell'amore misericordioso presso la località di colle valenza madre speranza ci ha lasciati nel 1983 era nata in spagna nel 1893 quindi è vissuta 90 anni esatti e si tratta di una figura veramente straordinaria io sono stata presso il santuario di valenza dove madre speranza ha vissuto per buona parte della sua vita e ho avuto modo di ascoltare i racconti fatti dalle persone che hanno avuto l'onore e il piacere di conoscerla e sono racconti veramente straordinari marre speranza era una suora dotata di straordinari carismi come quello della bilocazione e inoltre aveva ricevette anche il dono delle sacre stimmate e ebbe anche il dono della levitazione e molti sono stati testimoni di soprattutto a codurante i periodi della settimana santa e del venerdì santo e quindi periodi più forti appunto di quella che è la liturgia no cattolica e hanno si assistito proprio a rivivere sul corpo di madre speranza i segni della passione accompagnati dal fenomeno appunto della levitazione e nel santuario di colle valenza che è detto anche la piccola lourde perché madre speranza che nel corso della sua vita ha avuto una serie di colloqui con gesù e ha avuto anche visioni della vergine santissima di molti santi colloqui anche con lo stesso signore e per ordine di gesù madre speranza fece scavare nel suolo un pozzo fino a che si da questo pozzo appunto venne fuori un'acqua che ha operato ha operato molti miracoli e un'acqua leggerissima e ho avuto il piacere di berla è un'acqua veramente di una leggerezza sembra quasi inconsistente quasi evanescente e la madre poi è stata dotata da gesù di tutta una serie di doni e della capacità anche di compiere miracoli per sua intercessione ne ricordiamo un paio di straordinari la madre speranza aveva l'abitudine di ospitare a pranzo o a cena delle persone indigenti e molto spesso non aveva del cibo sufficiente per sfamare tutti quanti e molto spesso riusciva a far bollire solo una gallina praticamente e accadeva che improvvisamente in cucina nella cucina appunto di questo convento di questo monastero a un certo punto si assiste si assisteva se poteva accadere che si poteva assistere insomma alla moltiplicazione delle vivande e poi un altro episodio fu il trabordare no del dell'olio che si trovava in una cantina e era giunto quasi alla fine ma madre speranza ne aveva bisogno per anche per condire le vivande sempre per poter sfamare i poveri non sapeva come fare e si rivolse a gesù e a un certo punto dal contenitore dell'olio incominciò a traboccare una quantità abnorme di olio se voi andate a colle valenza ancora adesso è visibile il segno che sulle pareti ha lasciato il livello dell'olio che veramente fu c'è per la generosità di gesù scaturì a fiumi e miracoli insomma che ricordano molto quello della moltiplicazione dei panni e dei pesci noi la parola evangelica secondo cui ecco tutti furono saziati e nessuno ebbe più fame insomma quindi e tra i vari carismi di madre speranza vi fu anche quello di avere delle visioni delle anime del purgatorio e la carità infatti di madre speranza oltrepassava i confini di questo mondo e si estendeva anche fino all'aldilà nella madre era particolarmente viva la devozione alle anime del purgatorio e il desiderio di liberarle dalle loro sofferenze ma risperanza faceva celebrare continuamente sante messe e inculcava a tutti la devozione per le anime del purgatorio aveva stabilito che una percentuale delle offerte ricevute appunto dal santuario di colle valenza dovesse essere destinata a questo scopo cioè a far celebrare messe per le anime del purgatorio quando in occasione del suo onomastico compleanno le venivano offerte preghiere sacrifici e intenzioni per le sante messe devolveva spesso tutto in suffragi per le anime del purgatorio e volle anche che nel santuario di colle valenza una cappella fosse dedicata alle anime sante numerosi e impressionanti sono i racconti che la stessa madre fece dei suoi dialoghi con le anime del purgatorio in una di queste relazioni redatta appunto da madre speranza e la così raccontò questa esperienza straordinaria fu approssimativamente tra le nove e mezza e le dieci e mezza della mattina del 19 aprile quando all'improvviso mi ritrovai in purgatorio accompagnata dalla vergine santa lì ebbi la consolazione di vedere uscire le anime delle quali mi stavo interessando ecco che vedi inoltre varie persone che molti sacerdoti avevano affidato alle mie preghiere varie volte un giorno un'anima pia mi venne a trovare dicendomi che ormai si trovava in purgatorio e chiedeva incessantemente che la madre pregasse per lei perché durante tutta la sua vita aveva speso molto denaro per il fumo e aveva commesso anche un peccato di vanità durante la guerra civile spagnola in cui chiaramente infuriavano episodi gravissimi di di violenza tutto intorno al monastero spagnolo in cui si trovava l'epoca madre speranza una notte la madre intorno alle 23 si era ritirata nelle sue stanze la madre dormiva nella stanza accanto alla portineria e dopo mezz'ora la madre chiamò una consorella dicendole ma sei lì e la consorella le rispose sì madre e cominciò a chiedersi ma cosa succederà poco dopo madre speranza aggiunse se senti qualcosa non aver paura tolse dalla sua stanza una stufa elettrica e la diede alla consorella dicendole te la do perché non succeda niente a mezzanotte nella stanza di madre speranza si sentirono delle grida strane e come delle persone che parlavano la consorella aspettò un po e poi entrò trovò madre speranza che stava soffrendo terribilmente stringeva forte il crocifisso e piangendo diceva l'amore misericordioso è un padre abbiate fiducia di quando in quando si udivano delle voci cavernose come se per loro non ci fosse misericordia in questa angustia la madre offriva messe e sacrifici estette in questo stato per più di due ore sarei voluta andare a chiamare le suore ma erano lontane e non volevo lasciarsela la madre in quelle condizioni ho visto molte volte la serva di dio soffrire però parlava solo lei è stato terribile sentire quelle voci lontane e non vedere nessuno la madre poi mi disse che poiché durante la guerra c'era stata una casa destinata a far morire molte persone quelle voci che emanavano e avevano emanato emesso delle grida tremende erano voci di alcuni complici degli assassini un altro episodio accadde ad un cimitero polacco la madre era rimasta molto impressionata nel vedere le tombe di tanti giovani caduti durante la guerra e chiedeva al signore di portare in paradiso almeno le ultime due o tre file io senti la madre fra un rantolo e l'altro parlare a gesù dicendogli non sei morto per scherzo chi vuole più bene a queste anime tu o io io di messe più di tante non ne posso far dire non ho soldi tu lo sai tu sei morto in croce allora porta in paradiso questi poveri giovani morti lontano dalla famiglia e dalla patria porta in paradiso la mamma di queste due suore perché debbo avvertirle che la mamma è morta e non potrei confortarle se non dicendo loro che già in paradiso porta in paradiso la mamma di questo ragazzo che è un'anima abbandonata all'elevazione ti aspetto all'elevazione la madre non era più in sé e fissava lo sguardo verso un punto lontano il suo viso era freddo sentì un altro rantolo e la madre rinvenne ringraziava il signore per la sua bontà tu signore diceva sei troppo buono e noi non capiamo la tua bontà non ti conosciamo alla fine della santa messa ho domandato alla madre che cosa fosse avvenuto dato che era ancora fredda gelata mi disse che era andata in purgatorio a vedere il passaggio in paradiso di queste anime un tale una volta si presentò a madre speranza chiedendo di pregare per lui e di dire alla moglie che doveva restituire una certa a una certa signora una somma che lui aveva defraudato altrimenti non sarebbe uscito dal purgatorio la madre chiese a questo signore di mettere una firma per convalidare ciò che le diceva si fece dare l'indirizzo per chiamare la vedova la mattina seguente la serva di dio madre speranza dopo aver cercato ha trovato questa signora e le ha raccontato l'episodio al che la signora colpita e sconcertata disse piangendo alla madre sì è vero mi ricordo e subito cercherò di saldare il debito e pregherò per il mio povero marito e poi vogliamo adesso raccontarvi un miracolo straordinario che ha riguardato sempre la visione di un'anima del purgatorio avvenuta da madre speranza quest'anima del purgatorio era quella del vescovo che ha dato l'autorizzazione alla costruzione del santuario dell'amore misericordioso questo vescovo morì all'improvviso a causa di un brutto male che nel corso di poco tempo lo condusse purtroppo alla dipartita a madre speranza apparve prima il signore che le disse ti faccio vedere con quanta gloria il vescovo entra in paradiso perché ha dato l'approvazione al primo santuario del mondo dell'amore misericordioso poi il signore scomparve e arrivò il vescovo con il suo corpo glorioso il vescovo le disse madre speranza il signore mi ha mandato a te per ringraziarti perché tu mi hai chiamato a dare l'approvazione al santuario e il signore è stato molto molto contento adesso avrò per tutta l'eternità la gloria del paradiso però devo dirti che io prima di andare in paradiso ho sofferto tanto in purgatorio al che la madre replicò eccellenza ma lei è morto ieri a roma perché mi dice che ha sofferto per tanto tempo se sono passati solo due giorni il vescovo le rispose madre speranza il tempo dell'aldilà non è uguale a quello che si vive sulla terra ho sofferto molto molto di più in questi due giorni di purgatorio che non in 80 anni della mia vita sulla terra perché quando si muore l'anima si presenta davanti a dio e in presenza di dio l'anima si vergogna si vergogna del comportamento che ha avuto in vita trascurando il signore madre speranza devi dire a tutti che l'aldilà esiste e che sulla terra la cosa più importante è amare il signore tutto il resto non serve a niente e amare il signore tutto non serve a niente